Ciao a tutti, come vi parla e su Brae, in questo video prima di iniziare volevo ringraziare Opilfer che mi ha aiutato con le clip, mi ha aiutato tutto e soprattutto a fine mese arriverà un video speciale su iPad Pro, io vi lascio il video e bella ragazzi, iscrivetevi e condiviate il canale, bella ragazzi Barricate la stanza, dobbiamo proteggere il contenitore di bioristio Il nemico ha individuato il contenitore di bioristio Forzato al muro Attivazione telecamera Calibrazione con pressione aria, fatto EDD montato, siamo a 10 secondi Dispositivo piazzato Mancano 5 secondi Proteggete il contenitore di bioristio a tutti i costi Dispositivo piazzato Cambio caricatore Il nemico si scomplirà la telecamera in questa zona, che hanno visto Ho una visuale sul bersaglio Sei in una zona controllata dal nemico Lasciala subito La tua posizione è stata compromessa Sentate ulteriori accessi al contenitore Se rimani in questa zona, il nemico si scoprirà Mettite il nemico di prendere il contenitore Ti hanno scoperto, torna indietro Non è stato da frugarsi nel contenitore Non è stato da frugarsi nel contenitore Non è stato da frugarsi nel contenitore Ricarico Se rimani in questa zona, il nemico ti scoprirà Ti hanno visto Ricarico Ricarico C4 innescato Contenitore di bioristio in pausa Pensate al nemico Proteggete il contenitore di bioristio Grazie! 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 Ho rinforzato il pavimento! Il drone nemico ha individuato il contenitore di biorischio. Dieci secondi. Mancano cinque secondi. Barri sulla porta! Il drone nemico ha individuato il contenitore di biorischio. Ricarico, copritemi. Ricarico, copritemi. Il drone nemico ha individuato il cinque secondi. Maite le dal. Il drone nemo ha individuato il più eplosato. Ricarico, copritemi. L'arco di energia. Spare. Che. Spare. Che. Sì. 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 Difendete la stanza. Dobbiamo proteggere il contenitore di biorischio. Il drone nemico ha individuato il contenitore di biorischio. Fortifico il pavimento! Muro fortificato! Vilo spinato pronto. Siamo a 10 secondi. Siamo a 5 secondi. Vilo spinato piazzato. Proteggete il contenitore di biorischio a tutti i costi. Barricata in posizione! Porta barricata! Siamo a 10 secondi. Barricata in posizione! Borricata in posizione. Ricarico! Oh, no! Ok. Dispositivo piazzato. Vitro piazzata. Non è il resto della tua brigata. Non è stato difficile eliminare il tuo collega, però mi sono divertita lo stesso. Granata... Squadra d'attacco eliminata. Missione completata. I difensori hanno eliminato tutti i nemici. Percivalo. Cappeto piazzato! Cappeto piazzato! Cappeto piazzato!